Colore del Vento ha una struttura particolare nel senso che si muove cercando di contaminare più generi possibili all'interno del cinema documentario, del cinema del reale, nel senso che è fatto di tante storie, è un viaggio nel Mar Mediterraneo, in ogni porto racconta una storia diversa sinteticamente e ho cercato di raccontarle, ogni storia raccontata anche in un modo diverso, con un linguaggio diverso, con una forma particolare che si adattasse a quella storia e soprattutto al personaggio che parlava, quindi c'è magari l'intervista classica alla donna albanese che racconta il suo viaggio, piuttosto che la fotografia di un popolo lampedusiano che si ribella a una condizione ormai di abbandono, parlo degli anni passati quando Lampedusa era in un punto di criticità fortissimo, piuttosto che la fiction vestita da documentario, la ricostruzione ambientale storica fatta attraverso una giovane attrice che interpreta una bambina negli anni 90 a Dubrovnik durante la guerra, piuttosto che l'utilizzo del materiale di repertorio nella Barcellona del 1936 che racconta l'anarchia e l'importanza che ebbe l'anarchia in quella città di mare, raccontato attraverso il materiale di repertorio, quindi l'idea era proprio quella di cercare di raggiungere il pubblico attraverso espressioni diverse, ma che avessero contemporaneamente una linea stilistica comune, una continuità visiva che non li mettesse in condizioni di difficoltà. La struttura del film nasce partendo da un disco di Fabrizio André che si chiama Creso de Ma, che è un disco importantissimo che esce nel 1983 e che segna proprio una svolta della musica popolare di questo paese, ma non solo di questo paese, perché viene molto prima di Peter Gabriel, di tutto quello che è venuto dopo, perché proprio recupera una musicalità mediterranea fatta anche di strumenti nuovi, sconosciuti e ripropone sette storie, sette tracce, che sono un viaggio al Mediterraneo, attraverso un ritmo e una scansione musicale particolare. Al di là dei testi che sono cantati in genovese, quindi già una roba molto particolare, la scansione musicale e la possibilità di raccontare luoghi così diversi, con unità musicale unica, ma con ritmi diversi è quella che poi sta alla base di questo lavoro, di questo film, del colore del vento, sia da un punto di vista estetico, ma anche da un punto di vista ritmico, proprio della costruzione della storia. La prima storia che incontriamo nel colore del vento, che è una sorta di prologo, è la storia dedicata a Concia Perez, che è l'ultima delle combattenti anarchiche ancora sopravvissute della guerra del 36. Le storie che noi incontriamo nel colore del vento, storie di migrazione, di guerra, appartengono sempre a donne soprattutto, sono tutti personaggi femminili che cercano di cambiare la propria vita e il proprio destino attraversando un mare o trovandosi in rapporto diretto con questo mare, il nostro mare, quello che ci appartiene culturalmente e storicamente, che dovrebbe unire in qualche modo o quantomeno mettere in comunicazione, in realtà è diventato un muro, un cimitero, assume forme diverse. Questa anarchia che sembra appiccicata lì, è in realtà il punto di partenza, quasi come a voler dire, magari un po' arditamente, anche perché la storia non si fa coi sé, che forse se quella rivoluzione anarchica, che non era una rivoluzione comunista, ma era una rivoluzione anarchica, fosse andata diversamente da come è andata, forse il mare mediterraneo oggi sarebbe una cosa diversa. Il deficit vero è che il pubblico è omologato, fa veramente fatica a vedere qualcosa che non sia sempre quello, quindi deve essere comprensibile, deve essere facile, deve far ridere, deve essere in quel modo lì. Il colore del vento va per tutt'alte strade, frequenta luoghi, ambienti, persone che parlano e dicono anche cose quasi a noi sconosciute, perché parlare della guerra oggi, Dubrovnik 91, una città che per due anni viene bombardata tutti i giorni, un ragazzo di 22, 23 anni o di una ragazzina di 12 anni, come è la protagonista della mia storia, che scrive un diario e racconta le sue giornate, come può riuscire a parlare a dei ragazzi che oggi neanche si pongono il problema che esiste la guerra dietro l'angolo? C'è questa forte contraddizione che ormai il cinema ha costantemente, il cinema che si pone al di fuori della normale visione televisiva, è un cinema che non trova più ascolto. Per mostrare questo film a ragazzi di quell'età bisogna fare un lavoro introduttivo, non si può proiettargli un film così e poi sperare che ci sia un dibattito, c'è solo una reazione negativa, allora prima magari se ne parla, capiamo, affrontiamo il problema, perché qui non c'è solo l'immigrazione, c'è la guerra, c'è l'immigrazione, c'è il lavoro in mare, ma c'è anche la musica, c'è la speranza, c'è il sogno, non è un film negativo questo, greve, niente di tutto questo, naviga, viaggia, vola, però senza quello queste sono battaglie perse, assolutamente, la scuola qui ha una responsabilità che non è solo degli insegnanti, perché il problema è che la visione dovrebbe essere una materia di insegnamento all'interno di tutte le scuole superiori, almeno.